Salve a tutti ragazzi e bentornati da McShosha, siamo tornati con Clash Royale E in compagnia mia c'è sempre il malvagio, nonché il giocatore più forte in Italia di Clash Royale, Giampiler Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi farò spendere altri soldi a McShosha ma dovrò trovare un altro presupposto per far spendere ancora più soldi nel prossimo video Stiamo calmi, stiamo calmi ragazzi, anche perché come vi avevo promesso nella scorsa puntata Siamo arrivati ovviamente, abbiamo superato i tantissimi, i 40 mila mi piace E quindi anche in questo video andremo a spacchettare qualche baule magico Però ragazzi magari se superiamo di nuovo i 60 mila mi piace per questo video Magari reiniziamo a spacchettare anche i super magici, poi vediamo eh Siamo arrivati all'arena 6, Giampi Tec è arena 6 Esatto, stavo notando questo Oh oh oh, l'hai capita? Tec siamo all'arena 6, Tec è arena 6 Oddio mio ma perché non mi ammazzo? Quindi oggi andremo alla caccia di questa benedetta leggendaria Sarà il momento buono? Cercheremo di nuovo la leggendaria Ma come vi ho fatto vedere nell'ultimo video Ero arrivato in arena 6 e ho già trovato questi due belli Meglio i bauli omaggio Quindi adesso ragazzi ci resterà solamente da trovare il golem Giampi il golem com'è? Buono no? Il golem è un'ottima carta Mi ha permesso di arrivare a 1900 trofei Però ultimamente si sta comportando assai male Quindi non lo so, è un'incognita Che poi ragazzi voi mi avete suggerito di aprire i bauli magici Invece che i super magici Ma sapete che in realtà avreste più possibilità di trovare la carta leggendaria Se apriste i bauli giganti Ragazzi è statistica, è proprio così Però noi c'è un cazzo delle statistiche perché siamo ricchi E allora ragazzi mi raccomando Superiamo i 60.000 mi piace per tornare a aprire i bauli super magici Esattamente ragazzi a 60.000 mi piace Mike Shoshua spacchetterà la bellezza di 4 bauli super magici No 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 ragazzi A 100.000 mi piace ve lo giuro A 100.000 mi piace ve ne apro 5 5 bauli super magici Oh cos'è detto? Aspetta cos'è detto? No aspetta 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 ripeti perché non ho capito bene Ripeti Ho detto a 100.000 mi piace apro i bauli super magici Ne apro pure 5 ma dobbiamo arrivare a 100.000 mi piace Ma oi ragà oi ragà 100.000 mi piace ne apre 5 E se arriviamo a 105.000 mi piace ne apre 6 Eeeh Vabbè vabbè ragazzi Sì sì tanto quando ce l'attivamo Comunque in ogni caso ragazzi 40.000 anzi 50.000 mi piace per un prossimo spacchettamento Ma adesso ragazzi ci apriamo i bauli magici Vai sono alla ricerca della leggendaria Apri melo te per favore Oh vai lo apro io Allora 3 2 1 Eccolo qui Mamma mia ecco eh me l'ha aperto lui eh Fai tutto te John Carta risorse Io starò così Soliti Vai arcieri Vai così Non ce ne frega niente Via Perfetto Capanna dei barbari Che già c'ho a livello alto Gigante ottimo Gigante non ci interessa Cavaliere Cavaliere Attenzione il momento dell'epica Attenzione estattore dell'isir Già ce l'avamo Ultime due regà Attenzione backshosh Oddio Oddio aspetta vai piano Vai piano C'è un'altra Ragia per favore rullo di tamburi Grazie Rullo di tamburi Ce l'apre jumpy deck Gli abbiamo fatto La regia leggenda Uuuuh Mamma mia Peccato ragazzi Ci siamo arrivati vicini E nemmeno mi avevamo trovato il golem Quindi proprio sei spiegato a timex Eh no si è fa Esatto Quindi guarda Perché bisogna fare così ragazzi Shish kebab Shish kebab Shish kebab Vai Estattore Vabbè abbiamo capito Il mortaio Mortaio Mille mila Attenzione Sto tirando due epiche Mamma mia Mamma mia Mamma mia Vai Porca droga Mi infurio proprio Mi infurio proprio qui Esatto Stiamo trovando il golem Quanto meno trovare il golem Tesla Che l'hanno nerfata Con l'ultimo upgrade Perché Sì Perché ero stronzi Perfetto Giggiante Giggiante Scheletri Attenzione Siamo lì Quanto scheletri Estrattore Basta Non mi frega Oh Oh Si Si Hai visto Ok ma Però Però da notare Che è un altro tiro Magari sarà anche La leggendaria Tipo Cooper Se esce pure la leggendaria Me ne vado Regà Oh Oh No Minchiazzino Mi sono cagato Troppo in mano Però si Abbiamo trovato il golem Quindi Cioè noi abbiamo trovato 43 carte Su 48 Ti manca solo la leggendaria Per tutte quelle Della nena 7 E' finita lì Comunque ragazzi Ci abbiamo l'ultimo baule magico E poi passiamo alla seconda parte del video Che è quella di sfidarci Con una deck challenge particolare Ma adesso Vai Senza perderci in ulteriori chiacchiere Via così Però è impossibile che Jumpy l'ha trovato Io no Cioè è una cosa vergognosa Comunque abbiamo trovato Io ho trovato proprio a bucciaccio del culo Non disperare Ma non mi dispero io Ti va bene Ti va bene Se disperano i miei soldi Quindi pecca Ultimi due tiri Meccioccia Oh Attenzione Attenzione Ultimo Non lo voglio guardare Non lo voglio guardare Non lo voglio guardare Non lo faccio io Non lo faccio io Non lo faccio io Eh meccioccia Quando fai sempre sto trabocchietto Non lo voglio guardare Ti va sempre una merda Però non piangere Ma veramente È un fulmine in testa Guarda Però meccioccia Non tocchiai 480 gemme Le gemme giuste Sì me ne fregono cazzo Ma per il baule magico Io lo farei Esatto Esatto E se esce qui da leggendario Veramente non so cosa fare Cazzo No c'ha solo tre tiri Eh qua tipo adesso ti usciranno 300 carte di un upgrade e basta Mamma porca zozza Oddio ti usciranno 300 carte Ti usciranno 300 carte di qualcosa adesso Sì 200 carte comprimi guarda eh Nooo È il 88 e il mortaio che è inutile Mi poteva uscire lo sgherro Qualsiasi cosa Il mortaio Minchia che stiga Ti ha il cazzo Però ragazzi C'è il lato positivo Che ho attuato il golem Però Aspetta un attimo Ma che c'è un attimo in basso Che c'è Una carta romboidale Che non è Trovata C'è scritto sotto Non trovato Mi dispiace un sacco Ok ragazzi siamo tornati e siamo pronti per la deck challenge Ci avete suggerito un sacco di possibilità Un sacco di deck Abbiamo scelto di fare la epic deck challenge Che vuol dire ragazzi che ci andremo a sfidare con solo carte epiche Questo qui è il mazzo che mi sono fatto È un mazzo del cazzo È un cazzo di mazzo Esatto Non cambiare carte McChosh Altrimenti ti uccido Ormai il deck è fatto quindi sto cazzo Allora ho usato Strega Barile Goblin Orda di scheletri Mongolfiera Furia Principe Specchio E veleno Ok vabbè più o meno come la mia Sei pronto Jumpy? Ci siamo ragazzi Ci siamo Chi vincerà questa deck challenge Voi continuate a suggerirci Deck da poter utilizzare nelle prossime sfide Magari sfideremo anche altri youtubers Esatto Quindi attenzione Perché queste sfide sono assai misterie La voglia faremi tatti in match Oh attenzione Ma guarda subito No No Jumpy No Jumpy No Jumpy Viva lo specchio Eh bastardo La mia stessa mossa Eh la mia stessa mossa Sei proprio un cornuto Sei riuscito comunque A cosare Guarda qua Vai così con la furia ragazzi Furia Belli curiosi Buttateglielo giù Sì McShosh Sì No No Per poco ragazzi Per poco eh Ti piace da dietro Ti piace da dietro baby Sì 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 No Abbiamo perso una torre Dai Dai È la prima andata Ma quanto sono forte a giocare a crescere Mamma sì sei forte eh No sculato eh E comunque stiamo No Maledetto Siamo 1 a 1 Stai molto E palla al centro Stai tranquillo Adesso bisogna un attimo riprenderci Vai che elettrogigante Pensaci te Sta fai Dai arriva C'è quella Maledetto Bravissimo Bravissimo Mi sei piaciuto tantissimo No Qua ragazzi Qua ragazzi C'è a buttare giù Pure questa Caspiterina No Balordo Infame Vai No Maledetta Devi morire Porca troia Dai ragazzi Buttategli giù Quella cacchia di torretta Dai No 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 Vai buttatene la giù Sì Adesso ragazzi a difenderci come dei figli di cagna Come dei figli di cane 56 Oh sì vabbè Ma che stiamo a scherzare Ma che scherziamo Ma che stiamo a scherzare A difenderci A difenderci Solo 39 secondi Porca troia Non colpire la vai Non colpire le mie coglioni Che le tre norme del merda Che le tre norme del cazzo No Via Ce l'ho buttati giù Via 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 Oh però Oh ma ancora non muore quella manca il fiere Oddio 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 No se vinci così me ne vado eh Oddio 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 Guarda 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 Vince così raga Vince così No Pezzo di merda No Pezzo di merda No Era morto guardate c'era la bomba Sì Ma che forte Che sono a croce lojale Ragazzi Che forte Vabbè ragazzi è stata una sfida epica Non è importante chi ha vinto L'importante è che ha vinto L'amore, la pace E se Giampi E l'amicizia E se Giampi E se fossimo stati allo stesso livello 8 e 8 Siamo morti nello stesso momento Secondo me Quindi ragazzi io vi do appuntamento ai prossimi video Mi raccomando 60 mila mi piace Iniziamo a spacchettare di nuovo Eh maiccio Eh 60 mila mi piace è un cazzo Mi raccomando ragazzi 105 mila mi piace C'è in bicrocio e spacchetta 5 bauli super magici Che sono più di 150 euro Quindi forza cazzo Con calma ragazzi Non ci dobbiamo arrivare per forza A me va bene Già anche solo i 40 mila normali Vabbè però la sfida è quella ragazzi 100 mila mi piace 5 bauli super magici Io vi do appuntamento ai prossimi video Ringrazio il malvagio di Giampi Che per essere stato in mia compagnia Abbiamo battagliato in maniera epica 105 mila mi piace Ciao a tutti Buonasera a tutti Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Buonasera a tutti 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 Buonasera a tutti